La nostra associazione, che ha un nome dialettale che è Tratiazza, Rughe e Carrieri, si occupa proprio di turismo delle radici, ma con questo termine si racchiude un mondo, possiamo dire, perché all'interno di questo progetto partiamo dalla valorizzazione del centro storico con la riattivazione delle vecchie case dei nonni, all'arrivo di italo-discendenti che arrivano qui per ricostruire le proprie origini e poi vogliono rimanere, perché si integrano con la comunità locale, in tutta una serie di attività che vanno dall'artigianato alla musica, all'arte, alla gastronomia. Diciamolo una cosa, Maria Assunta, noi abbiamo ovviamente milioni di italiani all'estero, in tutto il mondo, e col passare del tempo i nipoti, i pronipoti stanno cercando le radici, da dove provenivano i nonni o i bisnonni, da dove tutto è nato, e vengono, nei casi qui del borgo di Baida, il paese di Maida, vengono a cercare tracce, che voi, sulle qualità voi state costruendo anche una realtà particolare. Sì, noi li aiutiamo a ricostruire quelle che sono le origini familiari per poter riconnettersi con il loro passato. La loro necessità è proprio di ricostruire la parte mancante della loro vita. È molto forte nel Turista delle Radici la necessità di rivivere i luoghi dei loro antenati. C'è Paola qui, ed è una testimonianza, per dire che stiamo raccontando cose vere, non, come dire, finti scopi giornalistici, ma che ci sono cose vere e concrete, come l'esempio di Paola. Tu da dove vieni, Paola? Vengo dal Brasile. E hai un marito e due bambini? Sì, proprio questo. E sei venuta a Maida? Sì, quando siamo arrivati è stato molto bello, perché nella casa in cui stiamo, che Maria Assunta ha cercato di ricostruire, di ristrutturare, aveva tante piccole cose che ci ricordavano i nostri nonni, i quadri cattolici, il padre Pio, i lavoretti di uncinetto, tante, tante piccole cose, anche il pavimento. Qual è stata l'emozione davanti a queste cose? È stata molto accogliente, molto accogliente. Mia mamma è venuta per aiutarci e poi è ritornata. Lei, quando siamo arrivati, cinque minuti dopo, perché prima non sapevamo dove avremmo stato, lei mi ha detto, ma Paola non sembra la casa dei nonni? Era molto divertente, perché infatti la casa si chiama casa dei nonni. Ma guarda un po'. Senti, poi con tuo marito e i figli avete deciso di rimanere qui, ma perché questa scelta? Tanti anni fa gli italiani hanno avuto una bella vita quando sono andati in Brasile. Stavano bene, no? Stavano bene, perché cercavano di costruire. Era un paese in cui bisognavano persone che volevano contribuire. E qua ci troviamo adesso in una situazione che sembra simile. Noi vogliamo contribuire, vogliamo lavorare, vogliamo stare insieme. E ci sono sorrisi, ci sono persone accoglienti. C'è spazio per stare insieme. C'è spazio per stare insieme. Grazie a tutti.